E allora l'8065 Gran Bretagna, collezione di Franco Volli dal 1840 al 2013, la collezione è in 6 album con cartello e custodia. Collezione molto avanzata, è stata realizzata nel corso degli anni da uno storico cliente della nostra ditta che amava costruirsi gli album da solo. In catalogo trovate un sacco di collezioni con i fogli autocostruiti e sono tutti più o meno in questa maniera. La qualità è mediamente buona. Di tanto in tanto, quando non trovava e così via, si accontentava anche di qualcosa un po' meno buona, un po' come si faceva nelle collezioni all'antica. Io adesso comincerò a sfogliare veloce perché vi renderete conto che è praticamente quasi completa. un sacco di collezioni. Ci sono i castelli, tutti i castelli, prima, seconda e terza. Come potete vedere è usata fino al 52, grossomodo. e poi da Elisabetta i francobolli cominciano ad essere nuovi. Non escludo che ci possano essere francobolli con linguella o traccia di linguella. Perché mi è capitato, guardando le collezioni di questo signore, che a volte ci sono anche francobolli con linguella. Tutto comunque sempre molto ben ordinato. Questo signore che adesso non è più fra noi. Ha cominciato le sue collezioni di francobolli nel 1934. Tutte le cartelle hanno pure la loro custodia che per motivi di semplicità qui non ha portato. ci sono anche libretti, i regionali. La collezione, soprattutto da Elisabetta, è veramente ben seguita. dal punto di vista del valore facciale, c'è un valore facciale elevatissimo, chiaramente. con il valore facciale, il valore facciale elevato. Adesso, la collezione è abbastanza di linguella e il valore facciale, un valore facciale, proverso facciale, per il valore facciale, per la collezione, per il valore facciale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono anche i minifogli, come potete vedere, libretti, libretti prestige, carnet. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua si comincia a notare che, andando avanti negli anni, la sua mano è stata meno ferma. Però, nonostante tutto, ha continuato fino all'ultimo a costruirsi le sue collezioni. Io sto sfogliando velocemente, se no il video dura un'infinità. Già siamo a 8 minuti di video. Per arrivare all'ultimo album. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il cliente era molto metodico. e in tutte le sue collezioni alla fine ha noto che lui ha deciso di smettere questa collezione il 7 dicembre del 2013. Se volete altre informazioni e video, scrivete al negoziochiocchioccio.com Grazie a tutti.